l'avete presente a questo video qui? faccio vedere un piccolo estratto si lo so si l'avete presente anche perché è super popolare questo è il set di solo moon per boiler room a tulumo in messico che ha superato 20 milioni di visualizzazioni su youtube in realtà non è il più visto della serie perché poi è arrivato re car cox con il suo set a ibiza ancora più facile però perché questo set di solo moon ha avuto così tanto successo proviamo a chiedercelo perché c'è un tedesco di un metro ottanta in pantaloncini corti ma per la bionda con le tettone senza reggiseno in prima fila non lo so può darsi per i suoi balletti per come balla in modo un po discutibile può darsi ora boiler room è un canale molto strutturato quindi non è proprio un caso che i suoi video siano molto visualizzati però perché questo e non tutti gli altri ne sono tantissimi video si molto visualizzati ma pochi che riescono ad avere un'esplosione così grande allora chiediamoci veramente perché perché hanno scelto questo per farci un milione di parodie e non altri forse perché queste immagini stanno bene su tutto ecco alcuni esempi ora in realtà boiler room non l'ha presa molto bene di tutte le parodie che venivano fuori e hanno iniziato a tirarle giù tutte da youtube quindi guys I'm sorry I'm just kidding but this is a serious content about your video so please don't shut me down ok nell'attesa nel boiler room ci lasci visualizzare questo video adesso cerchiamo di essere seri perché questo video funziona così tanto? il motivo è che c'è una bella situazione sono immagini piacevoli da guardare anche senza la musica sotto e poi è veramente un bel set è molto raro che un video così lungo abbia così tante visualizzazioni in realtà è così perché audio e video vanno molto bene insieme è per questo che ne parliamo oggi perché un set funziona anche lasciamo stare qui siamo ad altissimi livelli ma in generale anche nel nostro piccolo un set funziona se le immagini e la musica vanno di pari passo se solo non se ne fosse stato impalato lì tutto il tempo e anche le persone prese per i cavoli suoi questo video sicuramente non avrebbe avuto tutto questo successo anche con la musica più bella del mondo in realtà lo vedi che c'è una situazione vera perché tutti ballano fuori tempo però si stanno divertendo e anche lui stesso quindi funziona e funziona anche solo per le immagini che infatti si trovano spessissimo nei locali con qualsiasi tipo di musica diversa e allo stesso tempo veramente un gran versetto quindi immagini e suono che funzionano di per sé e insieme rendono una miscela veramente speciale questo è quello che possiamo apprendere anche nel nostro piccolo da questo video e cercare di portarlo nella nostra performance tutti i giorni cercare di comunicare sia attraverso noi stessi per come ci muoviamo per come ci poniamo e sia soprattutto con della bella musica lo vedi che non è una platea finta ci sono tantissimi video creati ad arte per fare visualizzazioni e magari funzionano anche ma non hanno tutto questo apporto come hanno video di questo tipo perché pur essendo un set costruito è reale è una situazione reale dove le persone effettivamente se la stanno facendo prendere bene ed è questo che dobbiamo ricercare ogni volta che facciamo qualcosa immagini e suono insieme consideriamo la regola base per un'ottima presentazione avete presente quelle robe noiosissime con powerpoint con le slide eccetera bene la regola base per un'ottima presentazione è che anche un cieco possa capire tutto quello di cui si parla seguendo soltanto le parole i due elementi combinati ci dicono tutto quello di cui abbiamo bisogno e nessuno dei due è carente in qualche aspetto ognuno è sufficiente di per sé questo è il motivo del successo di questo video di boiler room e questo è quello che dobbiamo ricercare ogni volta che ci poniamo di fronte a dei pubblici e anche da questo spunto che mi è venuto di inserire i sottotitoli nei miei video non soltanto perché adesso si vedono contenuti su facebook soprattutto senza audio ma anche perché possa essere sufficiente soltanto le immagini che scorrono con le parole per capire il messaggio un bel mi piace sulla pagina dj naso oppure iscriviti al canale youtube per seguire tutti i video di essere dj oggi alla prossima